La Cospiazza 3-0 nell'esordio casalingo, una bella partita, veramente bella pallavolo. Sei soddisfatto? A che punto è questa Milano? Questa Milano si sta conoscendo, non siamo ancora agganciati come piace a me ad alcune situazioni. Ci siamo parlati in settimana, tanto. Dico che stiamo piano piano crescendo, ma stavamo crescendo anche la settimana scorsa. È che, come ho detto a un tuo collega, sembrava quasi l'inizio della partita che stessimo aspettando di recuperare. Invece bisogna giocare, non devi recuperare, devi semplicemente giocare. Oggi siamo partiti decisi dal primo minuto. Bella partita, diciamo bravi ragazzi perché non sono stati veramente in campo. Basterà questo anche domenica prossima contro Trento, arriva già un'altra big. Altra partita completamente diversa, da affrontare con dei temi diversi. Per cui abbiamo davanti a noi una settimana molto intensa.